Ciao a tutti, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico, sono Key Matteo Camarda su Dark Fanities e vi invito a non dimenticarvi del canale, di restare iscritti e di seguirci, perché secondo me merita. Ragazzi, non lasciatevi traviare dai format, dalle rubriche, c'è sempre tempo per rinnovarsi, c'è sempre tempo per rendersi migliori di quelli che siamo. Vi invito a non perdere la calma e a restare con noi, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Ciao a tutti, da Key Matteo Camarda. Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Ciao. Sì, vi voglio bene anch'io. E non vi dimenticherò. Prometto solo elementi di non dimenticarvi e di non lasciare che il tempo trascuri i doveri di gestore del canale. Vi voglio bene anch'io riconoscere il valore di Dark Fanities sospirando tra i video vecchi e tra quelli nuovi e immaginando cosa possa ancora venire. Perfoglio vi ringrazio. Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Ciao.